Poche ore alla partenza per Piacenza per Davide Marra, che domani tornerà tra le file della Copra Elior. La società pallavolistica, che milita in Serie A1, ha previsto per lunedì 26 l'inizio della preparazione atletica per i giocatori che inizieranno il campionato il prossimo 20 ottobre. Prima gara in esterna contro l'Alto Tevere Città di Castello. Subito una scelta difficile per i praiesi. Tifare per la squadra con cui si è gemellata da poche settimane la Spespray a Volley 30 o per la Copra Elior, dove milita il numero 3 praiese. Ripartiamo il 26 per poi preparare la prima di campionato il 20 ottobre. Giocheremo a Città di Castello, che tengo a ricordare che la squadra ha gemellata con la Spespray, quindi spero che ci siano anche molti ragazzi di giù che verranno a vedere questo inizio di campionato. Spero che vinciamo noi, però la prima cosa è che sia una bella partita e che chi viene a vederla si possa divertire. L'obiettivo di quest'anno per la Copra Elior dopo la cociente sconfitta in gara 5 contro il Trento è ovviamente cercare di vincere questo campionato. Io penso già che sia molto difficile ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso, perché oltre ad aver perso a gara 5 lo Scudetto siamo riusciti a vincere una Coppa europea senza perdere neanche un set, quindi non è una cosa da tutti i giorni. Però non ci nascondiamo, siamo una buona squadra, abbiamo cambiato poco, però anche quest'anno come l'anno scorso non partiamo da favorita. Trento è un po' più debole, però comunque Macerata si è rinforzata molto. La prima partita in casa per la Copra Elior è contro la Tonno Callipo-Vibbo, che quest'anno ha rischiato di non iscriversi. L'iscrizione del Vibbo mi ha molto rallegrato, perché comunque è importante per tutto il movimento calabrese avere una squadra in A1 come punto di riferimento, quindi ci sarà subito il derby per me e anche lì speriamo di dar vita ad una bella partita come è sempre stato da Piacenza e Vibbo.